Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In direzione Roma è chiusa fino alle 15 l'uscita di Firenze Sud per lavori. Su raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia per lavori chiuso lo svincolo la California-Cecina Sud tra Cecina e Bibbona in ingresso e uscita in direzione Grosseto. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.